wow grande giro! wow che gol! mamma mia che gol! wow che gol! ma perchè in cinto forza la moglie? la moglie compagno? ma il massore si asomigli al calaio! guarda il calaio! ma pensavo che non era entrato lo sai? è uscita! è uscita da qua! che mazzo guarda! attenzione! guarda guarda! questo il Napoli non deve fare vedi? questo non deve fare vedi? guarda! te l'ho detto! te l'ho detto! che ti ho detto? che ti ho detto? ma che sia la seconda volta? vogliamo che si controvita così! come frutulazionale la gente! visto? guarda! guarda! chi è capace di essere assuntato? guarda! guarda! ma non dobbiamo pensare se l'hanno andato ad attaccare però! chi è che aveva combinato? se la pittura deve stare! ma poi se difendiamo la schifia! ma questo controvita lì! è una seconda volta! c'è da mettere in mano però! ma tu non puoi attaccare in undici! non c'è da lavoro! nooooo! vai, vai computТак! assisti Violente! ma quando le rende? pensa che è vicino che la gente è cam الا cosa fuori gioco! ma no no è scattato è scattato una palla che è arrivata no ma lui la palla la stava dando indietro non sarebbe in direzione di Lorenzo l'indietro la rimessa il giocatore è la Sampdoria perché il passaggio di Mario Dui è indietro quindi cosa vuole essere attribuito a Mertens o no ora vuole essere attribuito a Mertens ma nelle nuove regole dovrebbe essere attribuito a Mertens perché quindi Mertens stavano un po' giù cosa dobbiamo chiedere